E' tempo e modo di partire con il conto alla rovescia per lei in attesa che ritornino sui blocchi perché ogni volta che ci sia una gara, in questo caso la semifinale, la terza dei 400 ostacoli c'è uno stop sulla pedana del salto di tutti, una gara diventata lunghissima Tasha Smet ha dimostrato di poter fare cose fenomenali e in testa 14.91 ha dovuto aspettare il quarto salto per poterlo dimostrare addirittura ha saltato da 40 centimetri dal limite ultimo potenzialità enorme per quest'atleta estremamente potente buona l'asse di battuta stavolta e più 15, più 15 si va oltre al muro del salto triplo aggiunge 20 centimetri alla misura, si mette quasi al sicuro poi toccherà a Yamile Aldama per la quinta serie di salti Tasha Smet, mentre chiamate i blocchi gli ostacolisti 0-8, quasi un metro di vento a favore per Trisha